E allora siamo qui dalla Baglia dei Gigli per la gente insieme a Giovanni e a sua moglie per capire bene che cosa ne pensa lui di questa vacanza qui alla Baglia dei Gigli cominciata devo dire la verità in una maniera non troppo felice, giusto Giovanni? Ma ho visto di peggio Ho visto di peggio, però poi, poi, poi è andata benissimo tant'è vero Ma se il GP ci regala qualcos'altro Ora vediamo, ora vediamo, noi ci proviamo Giovanni Allora ti faccio le domande di Rito Come hai conosciuto GP Viaggi? Hai detto? Su Facebook Su Facebook, l'abbiamo ripetuto semplicemente perché prima si è mossa un po' la telecamera Perché hai scelto GP Viaggi alla fine? È veramente la prima volta, non c'è stato un perché Ma come mi immaginavi la tua vacanza? Come questa Come questa, quindi diciamo che abbiamo soddisfatto le tue aspettative? Sì, sì E come qualità prezzo cosa ti sembra? Buonissimo Buonissimo, sceglieresti ancora GP Viaggi per un prossimo futuro? Sì, sì, certo Certo, dimmi tre aggettivi per descrivere la tua vacanza Rilassante, rilassante, rilassante Eh ma così mi fai fare brutta figura, scusami E per me, scusa, l'animazione quindi ti ha fatto rilassare e basta? No, no, animazione top Ah, animazione top, eh scusa, diciamo perché poi dice rilassante, rilassante, rilassante Animazione top Quindi animazione bella gente e bell'ambiente, come si suol dire Eh, dimmi un po', dimmi un po' Eh, cosa ne pensi in generale, in generale cosa ne pensi di questa vacanza? Cosa ti ha lasciato? E che cosa pensavi potesse lasciarti prima di arrivare? No, la verità, eh, il primo giorno, perché siccome il villaggio è piccolino, fa un certo effetto Abituato ad altri villaggi enormi con, però dopo Ha il suo perché Sì, 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 tranquillo Anzi, forse è meglio perché i bambini sono raccolti Benissimo Sto tranquillo, non è che li devo cercare, tanto qua stanno Bellissimo Quindi ritorneresti alla Baia dei Gigli? Sì, sì Bene, sono contento Voglio salutarvi anch'io Dicendovi che siete stati fantastici qui con noi Vi ringrazio per questa video recensione Vuoi aggiungere qualcos'altro? No, no, sono sempre spazzesco Bene, e allora, come sempre qui dal Re Gaetano Dalla Baia dei Gigli, dalla nostra piscina In compagnia di Giovanni Vi diciamo Bella gente Bella pietra Ciao belli Ciao